benvenuti a muro leccese come sappiamo e come spesso vi ho raccontato qui nel Salento proprio da questi simpatici aneddoti derivano poi dei soprannomi che vengono affibbiati agli abitanti del Salento ed ecco perché a muro leccese gli abitanti sono anche detti porci noi sappiamo benissimo che la bellezza di muro dipende da ciò che hanno fatto i nostri avi diciamo i nostri nonni, bisnonni, quelli che ci hanno preceduto è stato anche utilizzato come mercato ortofrutticolo ed infine dalla fine degli anni Sessanta è stato adibito poi a Barbra molti non sanno che proprio qui a muro leccese sono state effettuate gran parte delle riprese della Fiction Mediaset del 2005 con Diego Abbatantuono, il giudice Mastrangelo il nostro viaggio a muro leccese non può non prevedere una tappa in questo splendido scenario che è un antico palazzo baronale, oggi Villa Zaira qui siamo su una strada messapica e questa strada è stata costruita già nel VI secolo a.C. ben arrivati a voi noi siamo in giro per muro leccese in questa splendida giornata primaverile Anna Maria e vogliamo conoscere questo palazzo antico di cui in tanti ci hanno parlato grazie a tutti